Ok, muoviamoci. Inventiamo l'obiettivo, proteggiamolo! Dove ce l'hai? A nord della tua posizione, sembra che ci sia un soldato nelito garaticano. Attenzione, l'obiettivo ecco è perso. Fornimenti in arrivo, recuperare ciò che serve e allontararsi. L'obiettivo ecco è stato centralizzato. Tutti giù, tiro una granata! Il nemico ha violato la nostra rete. Sistemi in disattivazione. E sono un attacco, il nemico. Si trova ovviamente nella tua posizione. La carica è pronta sull'obiettivo alta. Controliate la zona. Ci sono delle forti metri. Ricordati, il nemico. Wow, sei! Il nemico che si sono. A lontate controlli che si è venuta. E vediamo, guardate le loro disattivazione. No, guardate le loro disattivazione! Guardate le loro disattivazione, guardate! Sì! Sì, non è vero! Obiettivo Neutralizzato C'è un'imbarcazione nemica Aumenta di come sei Inemici hanno armato l'odiettivo Alpha Non controlliamo più l'odiettivo Alpha Hanno lanciato dei rifornimenti L'odiettivo Alpha è stato distrutto L'odiettivo Alpha è stato distrutto L'odiettivo Alpha è stato conquistato